Ben trovati a Mondo Azzurro da Emanuele Tramacere, oggi vi parliamo di Sharon Dour, centrocampista classe 2004 del Benfica e dell'Italia Under 20. Lui è per metà senegalese e per metà italiano da parte di mamma, nasce e cresce a Brescia, gioca nel Brescia, poi passa all'Atalanta in momento di difficoltà del club bresciano e nel 2020, quando il Covid ha fermato il campionato, si sono affacciate a lui tutte le big europee e a spuntare è stato Benfica. Con il Benfica in questa stagione ha l'attivo 28 presenze, 3 gol e un assist, gioca praticamente dall'Under 19 alla Serie B e anche in prima squadra dove ha trovato finalmente l'esordio a soli 18 anni. Centrocampista centrale con fisico e tecnica lo paragonano a Paul Pobba e anche lui stesso ha dichiarato di ispirarsi al centrocampista della Juventus, lui che ha la Juve un po' nel destino perché lo ha affrontato tantissime volte e tifa Juventus, non ha paura di dirlo davanti ai microfoni. Sono italiano e voglio giocare il Mondiale 2026 con l'Italia. Questo è il suo sogno e speriamo anche per noi che possa raggiungerlo.